Ariete La giornata sottolinea un risveglio con l'umore alto, favorevole alle interpretazioni positive dei fatti e in grado di allentare qualche tensione, sorprese dal settore amoroso, con eventi improvvisi che vi gratificano e infondono un impulso efervescente al momento. Toro Prosegue l'opposizione di Mercurio e del Sole che oscura un po' la vostra carica energetica e confonde le idee causando un periodo spento e fiacco. Oggi anche la Luna non vi guarda di buon occhio e vi rende piuttosto irascibili. Gemelli Nonostante una fase incerta e conflittuale nella sfera sentimentale, avete buone carte da giocare per recuperare situazioni e ambizioni che ultimamente avete tralasciato. Oggi la Luna armonica solleva lo spirito e vi inclina ad una visione ottimista delle cose. Cancro Va migliorando l'assetto del vostro cielo astrale che propone ancora uno strascico di nervosismo provocato dagli ultimi passi di Marte dissonante, ma avete dalla vostra parte i benefici effetti delle angolazioni di Sole e Mercurio che innalzano il tono vitale e mentale. Leone La Luna opposta oggi potrebbe offrire un tono irritato e polemico, disturbando le impressioni che ricevete dalla quotidianità. Già oppressi da un momento di abbassamento della vitalità e della lucidità mentale, non riuscite ad apprezzare neppure ciò che di buono avete intorno. Vergine Avvolti nella attuale esigenza di movimento e attività, siete grandi produttori di idee e proposte, al centro di un fermento vivace che alimenta i programmi del presente e del futuro. Appannato invece è l'amore che adesso riceve poca attenzione o è oggetto di conflitti. Bilancia Le positive angolazioni di Luna e Venere esaltano i sentimenti, la voglia di pace universale e una maggiore concentrazione sui vostri piaceri personali, sul raggiungimento del benessere interiore, momento favorevole all'amore e agli incontri. Scorpione Le percezioni emotive oggi vengono fiaccate da una luna disarmonica che vi orienta alle sensazioni cupe, provocando un nervosismo di base. Non siete carenti di forza fisica e mentale, ma oggi potreste scaricare in malo modo le vostre energie. Siate prudenti Sagittario Pervasi da una visione sentimentale della vita, plasmata sui vostri ideali goderecci e goliardici, siete in un periodo favorevole che investe soprattutto l'amore, la parte emotiva del vostro io. Non adagiatevi troppo sull'edonismo, ricordate i vostri impegni. Capricorno Forti di un buon appoggio astrale che solleva energia e vitalità, cercate di non cedere alla tendenza di caricarvi eccessivamente di responsabilità e impegni. Potreste crearvi uno stato di stress che dovrete poi smaltire in seguito. Acquario Il passaggio della luna nel segno oggi riporta l'attenzione sulle questioni sentimentali, acquendo le sensazioni positive e il buon umore. Nonostante qualche incertezza e un po' di stanchezza psicologica e fisica, avete ottime opportunità da cogliere. Pesci La buona forma fisica vi accompagna ancora, insieme ad una bella attività intellettiva che vi porta a condurre bene le vostre trattative e offre occasioni di incontri vantaggiosi. Un po' in ombra, ma ancora per poco, le faccende di cuore che non vi soddisfano pienamente. Buone stelle!